Benvenuti a TG Pro, appuntamento settimanale con le notizie dalla provincia di Ancona. Tre anni di lavori e 9 milioni di euro di investimenti. Ora il polo professionale, raccolto intorno all'Istituto di Istruzione Superiore Podestica al Secchioneste di Ancona, è una realtà pronta ad accogliere circa 600 ragazzi. Il nuovo complesso di Passo Varano è stato inaugurato questa settimana con l'ingresso delle classi ubicate in precedenza nelle sedi dell'ex IPC di Via della Montagnola ed ex Ipsia di Via Curtatone, testimonian d'eccezione l'ex arbitro Daniele Tombolini. Gli edifici, per una superficie complessiva di circa 10.000 metri quadrati, sono dotati di 26 aule didattiche, due aule speciali, 18 laboratori e 14 uffici. Sono inoltre previste una biblioteca, un auditorium, una sala multimediale per le conferenze e una palestra. Abbiamo spinto moltissimo sul risparmio energetico, sul recupero delle acque piovane per evitare sprechi di acqua potabile, sui materiali che sono fonossorbenti per quanto riguarda i pavimenti, che sono anche legati all'utilizzo in campo di alta sostenibilità. Abbiamo deciso di investire nella scuola, questa è una provincia che è la seconda in Italia per qualità di edilizia scolastica. Vogliamo mantenere alto il livello, soprattutto investendo anche negli istituti professionali, che anche a seguito di recenti indagini, dicono che saranno quelli che di più offriranno capacità lavorative nel futuro dei ragazzi. Quando ti puoi confrontare con i giovani ne esci comunque arricchito. In un momento come questo, da genitore e anche da persona che comunque ha fatto sport, avere questa opportunità è per me una fierezza. Un giorno importante, segna effettivamente un traguardo di tutto rilievo, con un atto anche simbolico. Abbiamo consegnato il nuovo edificio dell'Istituto Professionale Podesti e Onesti agli studenti. Sono studenti che si meritano questa realizzazione, che per tanti anni hanno vissuto in situazioni oggettivamente non ideali e oggi hanno a disposizione un edificio di grande qualità. Un edificio che ha rappresentato un grande impegno economico, ma anche tecnico, progettuale. È un grande lavoro di squadra. Nella provincia di Ancona cala la produzione pro capite dei rifiuti e raddoppia la raccolta differenziata, che raggiunge la soglia del 45%. Il risultato è una drastica diminuzione dei conferimenti in discarica, che passano da 210.000 tonnellate a 153.000. È quanto emerso nel corso dell'ultima conferenza delle autonomie locali sullo stato di attuazione del ciclo dei rifiuti. In un territorio che da anni dà prova di virtuosità nelle realtà comunali più piccole, incoraggianti appaiono i risultati conseguiti da città come Ancona, Senigallia e Iesi. In generale, nel 2010 sono state recuperate oltre 6.000 tonnellate di plastica, 26.000 di carta e cartone, più di 41.000 di rifiuti organici. Grazie al riciclo di queste materie, si sono avuti effetti positivi per l'economia e minori emissioni di CO2 per oltre 75.000 tonnellate. Un buon dato territoriale che si accompagna anche con un contenuto costo per i cittadini dell'intera filiera del ciclo dei rifiuti. Molti rifiuti meno in discarica dal 2007 ad oggi, molti rifiuti, anzi materia prima recuperata in più, adesso però c'è bisogno di fare un salto di qualità. Il salto di qualità si fa attraverso l'impiantistica ad hoc, sia per quanto riguarda la frazione secca, quella che i cittadini mettono dentro il sacchetto grigio, sia per quanto riguarda la frazione umida. Noi abbiamo già un impianto di trattamento della frazione umida, ma abbiamo bisogno di implementare questa filiera. E nel farlo dobbiamo tenere conto che oggi oggi la parte umida dei rifiuti manda metano in atmosfera, che fa male all'ambiente e fa male anche alle tasche dei cittadini, perché recuperando quel metano e producendoci energia ne trarremo tutti un vantaggio. Il Consiglio Provinciale ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2010, centrati gli obiettivi del patto di stabilità interno e del controllo del livello di indebitamento, fermo all'81% contro il 114% della media nazionale. Il dato più importante arriva dall'espansione degli investimenti previsti dal piano delle opere pubbliche, che raggiungono la cifra di 18 milioni di euro. Di fronte ad una crisi che si stabilizza sempre di più, la provincia di Ancona si struttura sempre di più dal punto di vista finanziario e soprattutto dal punto di vista positivo delle risposte sul territorio. Infatti le entrate calano e calano ulteriormente rispetto all'anno precedente. Noi cosa facciamo? Ottimizziamo al massimo la spesa interna e soprattutto continuiamo ad investire sul territorio attraverso opere infrastrutturali, attraverso le scuole, l'edilizia scolastica che è un nostro punto di forza, le strade, il demanio idrico, corsi di formazione, ma soprattutto infrastrutture. E sempre in Consiglio provinciale, approvato l'ordine del giorno, presentato dal consigliere del Partito Democratico, Paolo Raffaeli, per chiedere al Governo la revisione del decreto legislativo sulla promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Nell'esprimere forte preoccupazione per la crisi procurata a centinaia di aziende tra le più innovative del sistema economico, il documento invita il Consiglio dei Ministri ad emanare il decreto ministeriale senza imporre tetti limitanti allo sviluppo del mercato e riconoscendo un valore degli incentivi adeguato. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Buona giornata!